Che il tuo uomo alla mia sinistra ha il dito sul grilletto ma è troppo vicino Quindi il tuo uomo alla mia destra è un uomo morto Ma ancora non lo sa, mi dispiace molto per la sua famiglia 9 secondi È il tempo che hai per decidere il tuo destino 9 secondi